sotto i miei piedi il fiume sieve sono in toscana in provincia di firenze ed è da qui che inizia un nuovo episodio di running scenery seguitemi attraverso la valle del mugello la pista ecoturistica del fiume sieve è un percorso facile adatto alle biciclette alle mountain bike alle passeggiate e al running l'infrastruttura è stata finanziata con fondi europei in collaborazione con l'unione dei comuni del mugello e con un accesso facilitato anche per le carrozzine continuiamo il nostro percorso a dominare il centro abitato di decumano l'antica pieve di santa maria risalente al quinto secolo dopo cristo il percorso è leggermente ondulato ma rimane sempre a circa 200 metri d'altitudine quindi non ci sono assolutamente problemi per la respirazione e neanche per salite troppo impegnative sono a circa 9 chilometri del mio percorso questo alle mie spalle ponte a vicchio risalente al 1295 superato ponte a vicchio in direzione borgo san lorenzo uscendo di qualche centinaio di metri dal percorso ciclo pedonale sono arrivato al colle di vespingano ed è qui che nel 1267 è nato uno dei più grandi artisti italiani e mondiali giotto borgo san lorenzo con i suoi 18 mila abitanti è il centro abitato più importante del mugello la pieve romanica san lorenzo al suo interno un'opera attribuita a giotto la madonna col bambino il tragitto è immerso nel verde e lungo il percorso si possono trovare aree di sosta panchine e punti panoramici quindi diventa un'opportunità unica per svolgere attività sportiva e passeggiate immersi nella natura lontani dal traffico ho voluto uscire un po' dall'itinerario di fondo valle per arrampicarmi qui a quota 900 metri sulla catena peninica sono arrivato in questo luogo uno dei punti di accesso al mugello uno degli itinerari più suggestivi e spettacolari d'italia questo selciato risale al 187 avanti cristo è una strada romana la flaminia militare una via strategica che collegava bologna a fiesole per controllare l'appennino e far transitare le truppe in velocità oggi alcuni tratti della flaminia militare sono stati ricollegati insieme da uno dei percorsi escursionistici più spettacolari d'italia sono arrivato in località San Piero a Sieve per un runner correre in un luogo come questo diventa veramente importante anche sotto l'aspetto tecnico oltre che a svolgere i nostri lavori aerobici e quindi quelli dei chilometri, dei lunghi potremo anche fare dei lavori di variazione o addirittura delle ripetute misurando alcuni tratti del percorso o avvalendoci dei moderni smartwatch potremo correre sapendo quanti chilometri facciamo e a che velocità quindi una pista ciclabile può diventare una vera e propria pista di atletica leggera sono quasi al termine di questo viaggio di Running Scenery sullo sfondo il lago di Bilancino lungo il suo corso il fiume Sieve viene sbarrato da una diga artificiale così si crea questo invaso d'acqua in seguito alla grande alluvione del 1966 che colpì Firenze si concretizzò il progetto di creare questo bacino d'acqua 5 chilometri quadrati di superficie che oggi oltre a gestire la forza dell'acqua del fiume Sieve crea energia elettrica e regala gioia alla gente di questi luoghi per passare delle giornate al sole in riva al lago è proprio in questa splendida giornata di sole che si conclude questo viaggio di Running Scenery alla scoperta della Valle del Mugello come and give me all your super power super power super power super power Grazie a tutti.